Giornata importante per il team Aruba Racing Ducati, protagonista del campionato mondiale Superbike. Nel data center di Aruba è stata presentata la squadra che nel 2017 dovrà andare alla caccia del titolo Superbike. È dal 2011 che una Ducati non riesce a vincere il mondiale. La casa di Borgo Panigale ha rinnovato l'accordo con Aruba da grandi aspettative per questo 2017, soprattutto considerando i progressi di Chats Davis. L'esperienza di Marco Melandri, nuova arriva all'interno dei box, potrà essere certamente di aiuto per il team. Come ho detto ho trovato tante persone che mi hanno messo in grado all'interno della squadra, da Gigi, Ernesto, Serafino, Paolo, tutto l'ambiente, anche un grande particolare da Aruba che ci ha ospitato oggi. E quindi credo di essere nella situazione ideale al momento giusto. L'arrivo di un campione come Marco Melandri nel team, non ha bisogno di presentazioni ovviamente, durante i test prestasionali ha già mostrato un ottimo feeling con la moto che gli è piaciuta subito fin dalla prima uscita, un ottimo affiattamento con la sua nuova squadra. Quindi siamo davvero fiduciosi per un'ottima partenza in questo campionato. Avremo anche dei nuovi elementi nel team per rafforzarlo, avremo delle novità tecniche che in un caso a sviluppato ci verranno raccontate tra poco, per rendere la Panicard Air ancora più competitiva nonostante il livello eccezionale raggiunto alla fine della scorsa stagione. Una bella partenza, partiamo con questo team superbike rinnovato in cui abbiamo in qualche modo confermato Ciaz e Marco Melandri, è la grande novità. È un ragazzo che ha raccolto nella sua carriera molte vittorie, ma mai la vittoria finale. Lo vedo molto maturato, molto cresciuto e quindi se uniamo queste due punte che abbiamo ai miglioramenti che abbiamo fatto nella moto, credo che partiamo per poterci giocare veramente delle belle gare. Grazie.